Ciao strunzi! C'è questa storfa qui, se venite, che più bacia rispetto alle altre. Non c'è via. MF2, A3. Questa sedia. Ha lanciato degli oggetti. Ha lanciato il libro spiritico. Ma lo stonzo ha acceso la torcia? Ha acceso una lampada. Ha acceso una luce della cattedra. Eccolo! No, non l'ho preso. È piccolissimo. È un anetto, è più basso di me. È impronte. Vieni a fare la foto. Sì, abbrigate. Eccolo, ricammina. No, basta, basta fare la foto del coso, se no risprime. No, non l'ho preso per pochissimo. Cazzo, stava qua. Sì, è un bambino. Non esco a prendi fantasma, cazzo. Non esco a fotografare. Fantasma. No, fantasma. L'ho preso. Oddio. Eccolo. Oh, ma fratello. Eh, l'abbiamo fatto. Rispondi. Rispondi. Questa è cosa? È metro. Che ti chiama... Che ti chiama l'anomalia e vai gli nel sogno. Brava. Dimmi. Eccolo. Eccolo. Andiamoci, dai. Ma appena ho provato usci, si chiude la porta. Grazie. La foto del fantasma è iniziato. Grazie. Grazie. Io lo giuro. Ottimo. Che job's ready for you. 9, 9, 19. Ti sembra bellicatitti. Pronto. 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 Allora, finita, mettiamo di sopra. Siamo arrivati. Eccoti. Stanno qua, stanno qua. Eccolo. C'è una passata. No, non vede proprio gli stessi. No, non vede proprio gli stessi. Madonna. Congelamento. Si. Vado a prendere altri oggetti che ho lasciato delle cose. Occhio, eh. Ho controllato il sale. Si, però per la storia. Sa camminare? Si. Usate l'ultravioletto. Si. Non ha lasciato tracce, eh? Che ne dici di spegnere la candela? Digni quella merda. Non voleva dire quanto. No, l'insultano. Diggi che è un peggio di perché non abbiamo escondito. Spegni la candela. Noi abbiamo... La stacchiamo di botte. Un po' più. Un po' più di la candela. Aspetta, aspetta. Però non mi ha risposto. Diggi di scrivere sul taccuino, questo grandissimo aspetto. Esatto. Ma le MF... Sì, ma... Lascialo per te. Ehm... Scrivi sul taccuino. Scrivi sul libro. Delle prove. Delle prove. Non era il libro delle prove. Scrivi sul libro spiritico. Sì, un'altra volta. Ha cambiato due voci e mi ha risposto con due voci diverse. Una volta maschio e una volta femmina. Però ti ha risposto alla spirit box. Allora, la prima volta ho parlato da sola. E poi... Vi ho parlato e mi ha risposto con un'altra voce. Però gli avevo chiesto dove sei. E mi ha detto... Lib, mi sono... Di reso? La femmina... Sugai... Fingi di pensavo stessi per voi... Un sourd. Uff3 Sidi. Uff3 Si è amiche... Le pezzi più doublini. Questa tuba è in questo caso. Bene. Poi spegnere la candela. Un apetico. Un apetico. Ci va di spegnere la candela. Un apetico. Un apetico. Un apetico. Chiii di... la candela spegni la candela figo meglio di spegni la candela dai spegni spegni la candela spegni la candela prima che ti spacco di porte il bagno non può essere, sono 23 gradi spegni? candela ti va di spegnere questa candela? tutto pezzo non mi sta neanche a sd più si è spostato? no regà perché qua è meno 9,6 si può essere spostato spegni la candela vabbè che ci ha messo ci ha messo pure tanto prima di spondermi oddio c'è un'interazione se togliamo guardate guardate le foto acqua sporca tre stemme mi senti? ma hai spento la luce? chi l'ha spenta la rosa? c'è stato? io no mi ha messo a quanto si è per me sono i genenni perché Matteo ha seguito due voci in maschina femmina ma anche perché poi due stanze si è vero ha annunciato qualcosa infatti mi sono andato un attimo ma molti voci come si parla? come si parla? tutto pezzo di merda dovevo starmi a sd? voglio una prova perfuntabile che sei vivo perché sennò veramente ti spacco mossa come ti sei permesso di dire ue 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 fai finta di fare una bambina? lui ti ammazzo qua ti spacco mossa e ci gioco a golf i tuoi ossicini e la vita secondo me gemelli buono perché sul fatto delle due stanze due stanze due stanze due voci spegneva le candele ma dopo un po' di tempo non è che le spegneva subito perché anche se era un po' di tempo oggi è bravissimo e vai che culo è un altro giorno che vivo 300 esperienze a nulla madonna